La Maratona di Lisbona La Maratona dove c'è il ponte più lungo d'Europa, il ponte Vasco da Gama, che è la mini-maratona e tutti si trovano in centro, e sarà tutta la mattina. E come stavo dicendo, allora, Lisbona fa 2 milioni e mezzo di abitanti, mezzo milione in centro città, 2 milioni in periferia, per quale che domani vedremo che c'è già molto più traffico perché tutti vengono a lavorare in città usando la macchina. Allora, siamo in una zona industriale di Lisbona, dove ci sono alcune fabbriche che funzionano, altre ormai sono tutti abbandonate, sono tutti trasformate in zona residenziale come questa. La Maratona di Lisbona 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.